SOMIGLIA A LEI L'hai vista? No, non l'ho vista. SOMIGLIA A LEI L'indice di H era buono. 6.9. Lui starà benissimo. Alla grande. Cristina. Meredith Grey è sopravvissuta a una bomba, a un annegamento, a un uomo armato, un disastro aereo ed è ancora qui. Morirà a 90 anni, vecchia e al caldo nel suo letto. Non morirà oggi. Oggi lei starà bene. Me lo spero proprio. Deve stare bene. È la nostra persona. Meredith ha avuto una fortissima emorragia splenica. L'ho rimossa, ma... Lei... Oddio, Meredith! Sta bene. La Bailey ce l'ha fatta. Con l'assistenza del dottor Ross. La Bailey ha deciso che è più sicuro tenerla qui finché non si sveglia. Evviva! Evviva! Mi dispiace, ragazzi. Non volevo piangere e spaventarvi. Solo che ho... ho fatto... Portiamolo su.